Cosa possiamo dire se guardiamo al nostro paese? Possiamo dire effettivamente che si è creato un divorzio da un certo punto di vista insanabile tra intellettuali, popolo e partito. È creato una sorta di separazione totale. Gli intellettuali oggi, nella migliore delle ipotesi, sono intellettuali casta. Come dice l'escrittore Stefano Berni, la gente di una certa qual cultura, con la cappa, che si sente tanto più intellettuale quanto più distante dal popolo. Li vedete solitamente con la Repubblica il venerdì sotto braccio che pensano di essere colpi perché non hanno nulla a spartire con quelle masse disadattate, populiste, xenopope, che magari ribellicano il protezionismo economico e l'imitazione dei flussi migratori. Sono masse xenopope, populiste, perdute per sempre da morte. Sono quelle che, cito qui casi concreti e non mi invento nulla, di personaggi politici e culturali che sicuramente sono ascrivibili nell'immaginario collettivo, ma anche nell'immagine di sé che essi veicolano all'area delle forze progressiste. Cito solo tre casi, mi consentirete, di storia presenza. Natissimo intellettuale Jacques Attali, in Francia, autore anche di un libro su Maestro, tra l'altro, consigliere a suo tempo di Mitterrand, di un libro sicuramente non della destra. Il quale Jacques Attali, che ora è diventato consigliere di Macron, che l'ho inciso, disse nel 2012, se ricordo bene l'anno, ma che credeva la plebaglia europea? Che l'euro era stato fatto per la sua felicità? Dove è interessante l'espressione plebaglia europea. Le masse nazionali popolari sono diventate, per un quadrante progressista, plebaglia, che non può intendere e capire quello che sta bene. La seconda citazione la prendo questa volta da Hollande, quindi rimaniamo in area francocone, anche qui rimaniamo in un autore che è un personaggio che sicuramente autocertifica come saldamente antifascista, progressista e di sinistra, il quale disse, nel 2016, in riferimento alle masse dei dannati delle banlieue, essere dei senza denti, degli sdentati. La condizione di sdentati. Il terzo esempio che voglio richiamare è quello di Hillary Clinton, cosa è nata a pieni cerimonie da tutto il genset progressista che doveva sconfiggere il populista, Barbara, xenofopo, non fascista Trump, perché era effettivamente lei l'esponente di punta della democrazia missilistica, dei bombardamenti etici, in nome del progresso dell'umanità, che disse, in riferimento a coloro i quali votavano Trump, essere costoro una cesta di deplorevoli, nel 2016. Una cesta di deplorevoli. Si è consumato, credo, un divario completo tra la massa nazionale e popolare e gruppi, diciamo così, progressisti. E questo è il punto su cui bisognerebbe non si è ancora ripetuto, più efficientemente. Cioè il fatto che le cosiddette sinistre progressiste in una rimozione della lettera e dello spirito di Gramsci hanno abbandonato completamente le classi popolari al loro destino. Qualcuno ha parlato di solitudine dei lavoratori oggi, non più rappresentati e anzi demonizzati in maniera periodica. E hanno invece innalzato come loro valori di riferimento la difesa di tutti quei diritti individuali che hanno come proprie prerogative non scalfire nemmeno lontanamente i rapporti di forza interna e realtà. cioè quelli che invece non ci aspiravano concretamente a scalfigliarsi. Ecco, per queste ragioni credo che occorra ripensare da Gramsci il messo intellettuali, popolo, non più la categoria di Gramsciana di popolo, anche a posto di essere stigmatizzato come populista. In effetti oggi nel conflitto di classe asimmetrico peraltro fra un'aristocrazia finanziaria post-borghese e post-proletaria è una massa di dannati della terra senza denti, deplorevoli e plebaglia composta a vario titolo da disoccupati, lavoratori, precari, ceto imprenditoriale in fase di disfacimento e quant'altro. Effettivamente possiamo ben dire che è populista chiunque memore di Gramsci assuma la prospettiva del popolo e non delle ditte stesse sicuramente. Queste parole ancora conservano un senso. Ecco.